La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in altri 125 paesi. Sempre per la categoria Banking and Finance andiamo a premiare il Managing Director dell'anno Banking e il premio va a Liliana Fratini Passi, CBI. Eccola, per essere alla guida di un'azienda leader nella digitalizzazione e nella semplificazione per l'avvio di importanti partnership di livello internazionale che hanno permesso alla realtà di esplorare in modo virtuoso altri mercati europei. Complimenti, buonasera. Guardi, un passettino lì. Perfetto. Liliana Fratini Passi, CBI, grazie, Managing Director dell'anno Banking. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, pagamenti elettronici. Chiamiamo sul palco CBI. Ed eccovi, c'è un ritorno in realtà. Eh sì, è un ritorno, assolutamente. Il premio di squadra, il premio individuale e il premio di squadra. Esatto, esatto. Adesso è il premio, diciamo, di gruppo per rappresentare un'eccellenza in ambito open finance per l'ampia competenza e la preparazione nel settore del pagamento elettronico c'è nella digitalizzazione per la flessibilità e la tempestività dei propri servizi. E infatti abbiamo, un passettino più avanti, due categorie diverse e un po' più avanti, esatto. Due categorie diverse e prima, come dicevi tu, premio il singolo, adesso premio. Guarda, tutto il gruppo che storge il premio, giustamente. Bravissime, complimenti, di nuovo. Di nuovo. E allora dal palco di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, torniamo negli studi di Le Fonti TV per continuare a parlare dei nostri Le Fonti Awards, eventi che celebrano le eccellenze italiane. E in particolar modo quest'oggi ci concentreremo su una realtà che si è davvero distinta, ovvero CBI, che ha ricevuto un doppio premio. Innanzitutto un premio, possiamo così definirlo, di squadra, l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, pagamenti elettronici e poi anche un premio individuale come managing director dell'anno, settore banking. E noi proprio in rappresentanza di CBI abbiamo Liliana Frattini Passi, direttore generale in collegamento con noi. Buongiorno innanzitutto, benvenuta e ancora complimenti, naturalmente, per questi importanti riconoscimenti. Davvero grazie, buongiorno a tutti, ringrazio Le Fonti TV per questa opportunità e per questo duplice premio che rende tutta la squadra davvero onorata e soprattutto soddisfatta per il tanto lavoro che viene profuso ogni giorno, non soltanto da me, ma da ogni persona che lavora all'interno della struttura. E quindi davvero grazie per questo duplice riconoscimento. Certo, c'è l'esaltazione proprio del talento individuale e del talento anche di squadra del team. Ecco, con lei, dottoressa Frattini Passi, parliamo naturalmente del settore finanziario che sta attraversando una grande rivoluzione, la rivoluzione digitale che ha modificato naturalmente il sistema dei pagamenti, il vostro settore, nonché naturalmente anche l'organizzazione di imprese e banche. Ecco, quali sono innanzitutto i trend di questo settore in questo momento? Grazie per questa domanda. Sicuramente, come poc'anzi detto, il sistema finanziario sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione nel mercato dei pagamenti, dove alcuni trend sono chiaramente tracciati. Sicuramente ciò che è stato ed è ormai chiaro è che il quadro giuridico ha avuto una forza propulsiva nel tracciare dei cambiamenti. Un quadro giuridico che ha spinto sicuramente con la Payment Service Directive 2 a definire una nuova cornice entro la quale nuovi player sono entrati nel mercato. Quindi un nuovo quadro che sta comunque evolvendo e oggi noi già stiamo contribuendo ai lavori per la definizione dell'evoluzione della stessa PSD2 verso la PSD3 che ha ridisciplinato tutto il tema, insomma, la disciplina dell'open finance oltre che stiamo assistendo a quello che è la regolamentazione promossa dalla Commissione europea sui pagamenti istantanei e obbligatori che, insomma, è una regolamentazione che proprio mira a favorire lo sviluppo di soluzioni di pagamento competitivo a livello domestico e a livello internazionale. Come richiamavo, insomma, il quadro giuridico è sempre lo strumento con cui poi nuovi player entrano nel mercato e questi nuovi operatori con l'avvento di nuove tecnologie ha dato una spinta competitiva a quelli che si definiscono gli incumbent, quindi le banche presenti nel mercato. In particolare il mondo, il mercato europeo dell'open banking e soprattutto di quello che noi definiamo l'open finance ha dimostrato una certa dinamicità sia proprio in termini di crescita del numero dei fornitori che si definiscono terze parti cioè registrati ai sensi della PSD2 sia proprio, insomma, su quello che riguarda l'operatività. Noi ovviamente abbiamo anche assistito ad un cambio epocale sul comportamento dei consumatori. Questo lo possiamo anche ascrivere ai due anni di pandemia dove sicuramente anche le ricerche più autorevoli dimostra che il comportamento dei consumatori sia orientato sempre più verso diciamo casi di uso dei pagamenti in modalità alternativa al contante quindi in modalità cashless e quindi i pagamenti digitali in particolare noi li consideriamo come un abilitatore, come un ulteriore grimaldello per la modernizzazione del Paese e su questo noi siamo fortemente impegnati ad abilitare questo percorso evolutivo verso i nostri soci clienti che sono le banche intermediari finanziari. Sì, ecco, naturalmente un tema di profonda attualità che è al centro anche della cronaca e del dibattito politico. Quindi ecco, dottoressa Fratini Passi, abbiamo fatto questa panoramica appunto generale sulle nuove tendenze dei consumatori e del resto anche sulla disciplina e la regolamentazione appunto dell'open finance. Ora entriamo nello specifico parlando proprio dei servizi di CBI. Voi state rivoluzionando appunto, avete già rivoluzionato il sistema del pagamento digitale. Ecco, innanzitutto come è stato possibile realizzare questo cambiamento? CBI ha una lunga storia, una lunga tradizione di più di 20 anni di collaborazione aggregativa con i propri soci, soci clienti. Oggi noi siamo una società consortile che annovera tra i suoi soci tutte le banche italiane che poi sono i nostri clienti. Quindi noi ci muoviamo in un mercato captive e sviluppiamo servizi, insomma servizi digitali, piattaforme, infrastrutture. Siamo sostanzialmente un hub per l'innovazione tecnologica. Questi servizi sono offerti ai nostri clienti, banche, intermediari, finanziari, affinché questi ultimi possano offrire a loro volta verso cittadine, imprese, pubblica amministrazione ulteriori servizi di pagamento o di scambio documentale. Quindi noi ci muoviamo nella cosiddetta area del B2B2C, quindi il business to business to consumer. E in questi anni noi abbiamo veramente innovato contribuendo a questa spinta evolutiva del comparto finanziario, supportando e trenando il cambiamento e soprattutto quello che noi definiamo percorso di innovazione collaborativa nel mercato transazionale dei pagamenti. Noi perché insomma riusciamo in questo percorso così sfidante, che oserei dire anche tortuoso in alcuni momenti, perché abbiamo questa tradizione collaborativa e abbiamo nel nostro DNA la consapevolezza e la dimostrazione con servizi sviluppati in più di 20 anni che il successo di un ecosistema si raggiunge quando tutti gli attori dell'ecosistema, infrastrutture, clienti e fornitori di servizi, evidentemente sono in grado di dialogare la stessa lingua tecnica, quindi la semantica, la standardizzazione, condividere gli stessi modelli di servizio, quindi gli stessi servizi e soprattutto fare in modo che questo percorso di innovazione sia effettivamente promosso attraverso una governance centralizzata che è la nostra DCB. Questo nella piena consapevolezza che l'innovazione collaborativa porta successo a tutti coloro che vi partecipano, sapendo che tutti i servizi che noi sviluppiamo appartengono ai servizi dell'economia di rete dove il successo di un servizio non è nel servizio stesso o nella sua innovazione, ma nella portata di capacità di avere tutto l'ecosistema aggregato a quel servizio affinché effettivamente un cliente possa chiedere una modalità di pagamento indistintamente dalla banca offerente. Questo rende sì possibile una rete di accettazione, una rete evidentemente che promuove poi la usabilità dei servizi promossi da CB. Chiaro, si tratta dunque di una moltitudine di soggetti coinvolti, come ci ha spiegato bene nella sua panoramica. Abbiamo appunto parlato dei servizi offerti da CB, ma le chiedo quali sono nello specifico poi i vantaggi che le imprese e i cittadini riescono a ottenere grazie ai vostri servizi? Bene, uno che amo sicuramente menzionare anche per il valore che sta generando è sicuramente nel comparto consumer, è sicuramente il servizio Sibilla. È un servizio di multibanca, quindi è un servizio multibanca e multicanale, quindi offerto da tutte le banche italiane su più canali, quindi dall'internet banking, dal mobile banking, dall'ATM e consente ad un cittadino la ricerca e il pagamento digitale di bollettini sia verso aziende private, parlo di utilities, relativa luce, gas, acqua, assicurazione, sia verso le pubbliche amministrazioni con avvisi di pagamento pago PA, per esempio per pagare cartelle esattoriali, tiche sanitari, tasse scolastiche, latari e molto altro di più. Se pensiamo che questo servizio ha ovviamente grazie ai numeri e anche sulla spinta della pandemia, come richiamavo in apertura, ha consentito questo anno a più di 10 milioni di cittadini di pagare bollettini verso 20.000 pubbliche amministrazioni e verso 150 fatturatori privati. In particolare mi fa anche piacere condividere oggi con voi il fatto che questo servizio, il Sibil, abbia anzitutto registrato rispetto allo scorso anno una crescita dell'80%, arrivando a 150 milioni di bollettini pagati e che questo numero rappresenta circa un quinto dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, quindi siamo sicuramente un canale di riferimento. Aggiungo poi che con grande orgoglio il servizio Sibil è stato anche insignito del miglior servizio in Italia, campioni del servizio di pagamenti Smart 2023. Questo premio ci è stato riconosciuto dall'Istituto tedesco di qualità e finanza insieme alla testata repubblica perché ha effettivamente contribuito sulla base di molte indagini condotte presso i cittadini, ha consentito proprio questa facilitazione di accompagnare e di trasformare abitudini di pagamento dei cittadini. Invece il lato corporate mi fa sicuramente piacere menzionare uno dei servizi da cui poi tutto nasce che è il corporate banking interbancario da oltre 30 anni sulla scena del panorama finanziario italiano con oltre 3 milioni di imprese multibancarizzate che oggi non si recano più, oggi ma ormai da 30 anni non si recano più in banca per compiere tutti i pagamenti e gli incassi presso tutte le banche con cui hanno rapporto di conto corrente e quindi tutta la messaggistica, le funzioni, la rete, la standardizzazione e tutta la governance e l'infrastruttura è da noi governata e sempre sul lato corporate sfruttando le potenzialità dell'open banking che richiamavo essere state tracciate dalla payment service da IT2 noi abbiamo allacremente lavorato su diversi fronti. In primis abbiamo lavorato per consentire ad esempio alle imprese di cercare di preservare e comunque di supportare la pubblica amministrazione nella verifica tra il testatario del conto corrente e le informazioni fiscali e noi abbiamo rilasciato il cecchiban sia a livello domestico che internazionale e questa è una semplice modifica molto booleana quindi è un ok tra questo conto corrente intestatario che evita proprio di commettere errori e di pagare sostanzialmente qualcun altro avendo un IBA errato oppure di contrastare tutti i processi di phishing o di alterazione per motivi fraudolenti che purtroppo stanno interessando moltissime aziende. Ora a questo mi fa anche piacere che con questo servizio noi abbiamo attivato anche una bellissima partnership con SurePay quindi un player internazionale che sta effettivamente dando una spinta significativa al percorso di internazionalizzazione dell'azienda. Sicuramente insomma vi state muovendo nell'ambito della semplificazione di una maggiore sicurezza come ha ricordato naturalmente anche di un grande risparmio di tempo un vantaggio enorme e per le aziende e per i singoli cittadini questo sicuramente insomma vi è stato riconosciuto appunto anche attraverso il premio. E ha parlato proprio del percorso di internazionalizzazione che state intraprendendo e proprio nella motivazione al premio assegnato a CBI si legge dell'avvio di nuove partnership di livello internazionale che hanno permesso proprio alla vostra realtà di esplorare in modo virtuoso altri mercati europei. Ecco ci vuole parlare proprio di questa nuova frontiera e naturalmente anche di tutti i servizi che si accompagnano. Sì è chiaro che oggi con un quadro regolamentare che disciplina a livello europeo un mercato un mercato quindi ben al di là dei nostri confini oltralpe oggi noi abbiamo la sfida di definire servizi che siano exante interoperabili a livello internazionale quindi l'accordo sviluppato con la partnership olandese di SurePay che è leader nei servizi di confirmation API ci dà proprio la spinta verso questo percorso di internazionalizzazione che noi da tempo abbiamo intrapreso e che mira ad estendere queste partnership con più soggetti, con più paesi proprio nell'ambito dell'open banking. noi stiamo disegnando ad esempio ulteriori servizi a valore aggiunto in questa direzione un altro servizio che si appaia al check IBAN si chiama proprio il name check quindi dare una convalida tra la titolarità dell'IBAN e il suo nome che è un gradiente diverso rispetto all'Iban check proprio quando ad esempio ci si trova all'estero e ovviamente il codice fiscale è un'informativa assolutamente italiana che non troviamo in altri paesi e quindi questo è proprio per favorire, per dare certezza al cittadino, al cliente, all'impresa nel momento in cui dispone un pagamento di pagare esattamente il proprio creditore. Ora aggiungo che in questo ambito si stanno poi muovendo nuove direzioni come la spinta richiamata in apertura della Commissione Europea in tema di instant payment quindi è sul tavolo una bozza di disegno, di disegno ovviamente di regolamento volta proprio ad introdurre questo obbligo degli instant payment a livello almeno europeo. quindi noi lavoriamo con questa direzione. Altro tema è lo smart onboarding, è un servizio che vuole proprio aiutare a livello domestico internazionale il processo e quindi la semplificazione per sia l'impresa ma anche per il cliente, la semplificazione dei processi di richiesta di servizi digitali quindi quando ad esempio io sottoscritta richiedo un servizio sul sito di un fatturatore o piuttosto di un servizio digitale non dovrò, non sarò richiesta di compilare tutti i miei dati ma questi dati potranno essere forniti direttamente su mia autorizzazione dal mio intermediario finanziario questo farà sì che chi riceverà questi dati e quindi il merchant potrà ad esempio evitare frodi piuttosto avere una certezza sulla titolarità di quei dati perché forniti da una banca che come sapete segue i processi di verifica dei clienti attraverso ovviamente percorsi di know your customer. Stiamo poi lavorando avendo anche sempre a mente le esigenze per le aziende da un lato di smobilizzare il proprio working capital ma dall'altro anche degli intermediari finanziari di fornire il proprio anticipo fattura ad aziende però attraverso un percorso che sia ovviamente in linea con diciamo insomma evitare azioni fraudolente di terzi noi stiamo lavorando sul progetto CBI database controllo anticipo fattura che è stato inserito proprio recentemente in sandbox regolamentare istituita presso il MEF gestita proprio in coordinamento con la Banca d'Italia, con la CONSEB, con l'IVAS ed ha ovviamente l'obiettivo di favorire questo percorso e di contribuire ad un'azione di trasparenza verso tutti gli intermediari che si accingono ad anticipare fatture e quindi evitare che questa sia eventualmente anticipata più di una volta. Quindi il percorso è come... Il tema della trasparenza, della sicurezza, assolutamente ecco tornano appunto dicevo il tema della trasparenza, della sicurezza, della rapidità naturalmente anche della gestione insomma appunto dei servizi e veramente ormai ecco la lista è davvero lunga dottoressa Frattini passi di tutte le iniziative che state portando avanti in questo momento e altre ce ne saranno poi per il futuro ne parleremo naturalmente nell'ultima parte dell'intervista però volevo tornare anche ecco al suo premio quello individuale perché appunto abbiamo parlato di CB e dei servizi appunto che vengono gestiti collettivamente dalla vostra impresa ma poi ecco c'è anche un suo lavoro proprio addirittura lei è stata definita come la donna che traghetterà l'Italia verso le nuove sfide dell'open banking ecco le chiedo innanzitutto a partire insomma da questa definizione così importante se l'Italia a livello europeo riuscirà innanzitutto a colmare il gap rispetto alla trasformazione digitale e potrà soprattutto ecco nel futuro ma già anche nel presente presentarsi come protagonista di questa rivoluzione guardi grazie ovviamente mi ha molto onorato ricevere un personale riconoscimento io non mi sento come individuo come donna che autonomamente può traghettare un percorso di innovazione io credo che il mio lavoro sia quello di contribuire ad un percorso aggregato affinché l'innovazione sia portata insieme e in parallelo da una moltitudine di soggetti cercando di far dialogare tutti questi soggetti e le assicuro che sono moltissimi quindi ecco se vogliamo mi sento sicuramente onorata per aver ricevuto un'azione di merito proprio sull'impegno che è un impegno di un collettivo ecco io credo che l'Italia stia facendo grandi sforzi ma soprattutto lo sta facendo sia il settore finanziario ormai da tantissimi anni con gli investimenti che compie a livello architetturale, a livello di IT ma vi sono dei segnali chiari proprio del recupero dell'Italia che sta effettuando attraverso l'indice chiaro, il DESI, l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società che diversi tempi fa ci posizionava intorno al 27esimo posto oggi noi siamo al 18esimo posto tra i 27 paesi dell'Unione Europea quindi abbiamo fatto molta strada ma molta ancora ne dobbiamo fare e certo l'accelerazione evidente che abbiamo avuto per effetto della pandemia l'adozione sicuramente del PNRR tutte le riforme previste dallo stesso continueranno a dare una spinta fortissima quindi un impulso ulteriore alla digitalizzazione sia dei servizi finanziari ma al lato senso dei servizi verso la pubblica amministrazione lo abbiamo letto, lo abbiamo sentito ma mi sento ovviamente di voler ribadire l'importanza del piano nazionale di ripresa e resilienza che rappresenta un'opportunità imprescindibile ed imperdibile di investimenti e riforme per il nostro paese proprio per riprendere un percorso di crescita economica che sia duraturo e persistente e sostenibile e che vada a rimuovere gli ostacoli che hanno per tanto tempo bloccato l'Italia ricordiamo che tra le sei missioni definite nel PNRR il PNRR abbiamo la prima a cui è destinata addirittura il 27% delle risorse riguarda proprio i temi della digitalizzazione, dell'innovazione e della competitività e cultura quindi insomma noi non possiamo più prescindere da queste due transizioni gemelle ovvero la trasformazione diciamo verso il green ma anche verso la sostenibilità e quindi verso la digitalizzazione tutto questo anche come comparto finanziario lo si deve accompagnare da che cosa? da una ulteriore e innovata cultura digitale attraverso come? attraverso continui confronti, continua comunicazione ma anche formazione, disseminazione, conoscenza e cercare di contribuire al processo di disseminazione evidentemente di quelli che sono i temi chiave e come il cittadino non solo deve conoscere gli strumenti come li deve usare ma come anche proteggersi da tutti i meccanismi di frode a cui purtroppo noi tutti con tentativi di phishing che subiamo ogni giorno siamo evidentemente attentati con la tecnologia quindi un uso consapevole e ovviamente attento della potenzialità infinita della stessa tecnologia per incoraggiare le imprese e i cittadini nell'utilizzo di questi servizi digitali ecco quindi il lavoro è veramente importante e stiamo contribuendo in questo dibattito sotto la spinta gentile la definirei così dell'Europa e della PNRR che appunto invita i paesi membri dell'Unione in questo processo verso la digitalizzazione io mi sono segnata anche non lo sapevo un dato che mi ha fornito lei adesso ovvero del nostro diciottesimo posto sui 27 paesi dell'UE beh diciamo insomma poco dopo la metà classifica a importanti passi sono stati fatti ma come ha sottolineato anche lei dottoressa in realtà altri ne devono essere compiuti e naturalmente qui parliamo di futuro perché la digitalizzazione propone veramente delle sfide continue non solo per il presente ma proiettandoci già per gli anni a venire ecco quali sono le sfide del futuro di CBI CBI ha davanti un percorso sicuramente di ulteriore trasformazione abbiamo davanti almeno tre driver su cui io mi sento di sottolineare con voi le attività da un lato abbiamo proprio nel prossimo anno l'obiettivo di innovare le architetture quindi abbiamo un importante progetto di trasformazione infrastrutturale proprio per fare in modo che tutte le architetture quindi tutte le piattaforme gestite su cui poi si poggiano tutti i servizi offerti alle banche possano essere a questo punto possono sfruttare appieno la tecnologia del cloud attraverso quindi un unico cloud privato e dedicato poter evolvere sempre più e con dinamicità, con time to market con le migliori tecniche ovviamente tecnologiche noi abbiamo la possibilità di sfruttare al meglio il paradigma dell'open banking per fare in modo che le nostre banche quindi intermediari finanziari possano sempre più con tempismo e al passo dei tempi offrire a pubbliche amministrazioni cittadine e imprese servizi transazionali basati sull'open finance in tempo reale e proprio ampliando quello che è la necessaria efficienza e sicurezza che oggi diciamo gli attori del mercato sono richiesti di soddisfare a questo percorso che ovviamente è molto sfidante per noi si appaia ma è ovviamente già ne abbiamo parlato proprio il processo di attivare partnership internazionali guardando proprio diciamo alle potenzialità dell'open finance e riconoscere quei player con cui poter sviluppare accordi in reciprocità e quindi i nostri servizi fare in modo che possano essere di appeal non soltanto per clienti e cittadini italiani ma anche per quelli oltre alpe e sempre guardando alla user experience guardando a quello che effettivamente interessa poi alle banche cioè sviluppare e innovare ma rendere la customer sempre più semplificata e sempre di soddisfazione abbiamo poi insomma in tutto questo percorso molto a cuore il lavoro verso la pubblica amministrazione noi siamo un player che abilita a tutto il mondo finanziario una semplificazione verso la PA e quindi con questo percorso noi ci sentiamo un player di riferimento anche per la stessa azienda Pago.pia mi sento anche di dire che una sfida che la voglio considerare trasversale è proprio quello di lavorare tenendo conto degli obiettivi di environmental, social and governance cioè gli obiettivi ESG che debbono essere il mantra con cui snodare il modo di lavorare non soltanto verso i player verso quindi i propri clienti e verso gli stakeholder ma soprattutto all'interno quindi fare in modo che la stessa azienda guardando ovviamente guardando guardandosi proprio nel modo come organizza il lavoro il modo come diciamo i dipendenti lavorano all'interno diciamo l'inclusione e l'abbattimento delle diversità diversità non solo di genere ma anche ma soprattutto di competenze cercare di eliminare ogni elemento che possa effettivamente ostacolare un percorso virtuoso del raggiungimento di obiettivi ISG e della relativa compliance può anche immaginare che questo percorso per noi è fondamentale anche tenendo conto che siamo un soggetto sorvegliato dall'autorità di vigilanza essenzial del 146 del testo unico bancario e in qualità di struttura e di infrastruttura determinante del settore finanziario per la normativa d'ora noi abbiamo tutto l'interesse normativo e proprio metodologico per fare in modo che il nostro lavoro sia fondante anche per il raggiungimento degli obiettivi proprio dei nostri clienti di compliance alla normativa vigente quindi mi sentirei un pochettino di così di sentitizzare che effettivamente come ci ricordava l'imprenditore Enzo Ferrari certamente il futuro è sempre nelle mani di chi cerca e sa anticiparlo quindi noi dobbiamo guardare al percorso di innovazione tenendo conto di tutti questi driver certo voi mi sembra proprio che andate contro insomma incontro al futuro con grande prospettiva insomma di certo non lo subite ma anzi lo anticipate con tutte le iniziative tutte le sfide che dei by bay riuscite ad affrontare quindi ancora davvero tanti complimenti a CB un'eccellenza appunto dell'Italia nel settore naturalmente dei pagamenti digitali nel settore dell'innovazione e della leadership io ringrazio ancora la dottoressa Liliana Frattini Passi direttore generale di CBI per questo bell'approfondimento e naturalmente l'aspetto ancora sia sul palco di Palazzo Mezzanotte per altre premiazioni sia qui in studio per continuare a parlare delle evoluzioni dell'open finance grazie davvero per essere stata nostra ospite grazie grazie di nuovo a Fonti TV alle Fonti TV per questa straordinaria opportunità grazie e a presto grazie a tutti